Tempo di bilanci per il progetto Life Wolf Alps EU. Il programma quinquennale, coordinato dal Parco delle Alpi Marittime, che ha coinvolto 20 partner sparsi in tutto l'arco alpino, tra i quali anche il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è terminato alla fine di settembre. Grazie a Life Wolf Alps, l'ente parco ha potuto acquistare e distribuire incomodato d'uso gratuito ad oltre 60 allevatori nei 15 comuni del parco, altrettante recensioni elettrificate, che hanno permesso di difendere gli animali domestici dagli attacchi del lupo, con risultati interessanti. Secondo le rivelazioni effettuate, tra il 2020 e il 2024 hanno pascolato all'interno dell'area protetta oltre 10.800 animali e sono state registrate e risarcite solamente 15 predazioni, con un'incidenza dello 0,15%. Importante anche l'attività di informazione e comunicazione per i residenti, con la realizzazione di 24 incontri pubblici ai quali hanno partecipato oltre 1.300 persone e in collaborazione con la nostra emittente sono stati prodotti 5 cortometraggi visibili sul sito del parco, che illustrano la biologia e il comportamento del lupo, la storia del suo ritorno spontaneo sulle nostre montagne e le misure da adottare per prevenire gli attacchi al bestiame domestico. Prodotto anche un breve documentario che sarà proiettato il 12 ottobre all'interno del festival Oltre le Vette. Non è mancata l'attività nelle scuole, ricorda il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con la realizzazione di un podcast dal titolo Il Lupo Ieri e Oggi, pubblicato nei giorni scorsi sulla piattaforma Talking Nut e che in due episodi affronta, tramite l'interazione tra padre e figlia, alcune delle questioni più complesse messe in campo dal ritorno del lupo, come la conservazione della biodiversità, la convivenza con le attività zootecniche, i corretti comportamenti da tenere nei confronti del grande predatore.